Tutto questo video sarà Deza responsabile perché è l'unico che sente le persone che sono in ts e tanto Deza non ha neanche abbassato l'audio di gioco quindi non si capirà un Abbassato bravo guarda continuano che deciso è basso abbassiamo ancora un pochino Siamo in ts con delle persone socialmente disturbate che rispondono i nomi di presentatevi o popolo Mordugga sono un culo non è vero sono io Mordugga maledetto io sono e singa io sono Allora adesso faremo una grande sfida a Ayrston che sarà ricordata negli annali della storia Di nabbi Esatto come suggerisce il nabbi creeremo un mazzo in maniera totalmente casuale sceglieremo soltanto La classe creeremo un mazzo e io farò questo il buon signor gesualdo che risponde anche a nome di Mordugga gliel'ha detto bene adesso e ci sfideremo in una sfida che non ha deciso se secco al meglio delle tre Meglio delle tre dai c'ho meglio delle tre no no secca se ti piace porto il mazzo è veramente una noia Secca 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 Si fa tutto in un unico video Adesso mentre il mio allegro avversario creerà il mazzo io farò lo stesso E tu compagno io sto smontando un martello Dardius sta smontando un martello come potete vedere dalla webcam Io sceglierò Scegli anche la classe si La classe la scelgo Ok scegliamo una classe random Tu la scegli la a tuo libero principe Ok E' tutto lì Adesso facciamo fine E verranno giunte 30 carte casuali Oh mio dio Allora Fine Si Madonna che aborto Oddio che faccio fare Perché si deve sempre mettere dei cazzo di murloc Però il becchino va bene Eh si è vero Zero lantoli di murloc Vabbè Ma se sfogliare le carte così è quella di quale altre ts E loro sentiranno le carte Smettiamo di parlare sopra la gente d'artilus Nell'all Oh mio dio Ok Mazzo creato Allora adesso devo trovare il mio avversario Tra i Dai che mi trovi Sfidiamo il nostro Il mio avversario Sperando che intanto i suoi degni compari Siano Ehm Spetteranno la partita Ma ovvio Aspetta che Il popo esce l'occhio Aspetta la partita Aspetta la partita Vado Non lo registriamo Ma aspetti la partita e stai zitto Ma perché aspettaranno cosa che non mi interessa Cazzo è su Ma la vediamo da qua la vediamo E intanto all'altro lato si mena no? Non si vedono Non si vedono Non si vedono Ti picchiano Allora ok vai vai No non farlo Sta partendo sta partendo Mi sciamano contro prete A posto Sapevo io che iniziavo col murloc in prima mano Ma porca Vediamo un po' io che inizio Fermarti al fato Oh Simpatico Eh dai Perfetto un calcio nelle palle A stavano iniziare Mordug Io ho seguito il principio Tengo solo le cartelle dorate in mano Ok È sbagliata come principio d'articus Che dici? Però vabbè Saluteremo il nostro avversario Con simpatica di tua mazia L'hai minacciato di morte Lui mi ringrazia La luce ti brucerà Vado Vai No lui c'ha troppo avuto No No Abbiamo perso La prima carta io la gioco tra vent'anni Io sono per surrender Beh il mazzo ci aiuta con chiari segnali Vai Non sanno che il nostro non è un mazzo pirata No easingar se n'è andato Perché te ne sei andato easingar Ecco ho sbagliato a spettare Stai spettando me? Che fa? Dai consiglio all'avversario Tipo No ho sbagliato veramente Che vuoi un rumore per un mortello? Eh Cos'è che sei spacciato vero? Continuo a pescare con la carta Babbavia Le big giocate di Mordug Vabbavia Perfetto Vai Non puoi fermare il cannone Com'è che si chiama? Cannone nautico Nooo Perché c'è un telescopio gigante Il cannone nautico Il cannone nautico Il cannone nautico Ma sei fuori? Spari una cannonata per quello che prendi Perché non ho pirati Voglio pirati Il mazzo pirata La pecora esplosiva? Qua? Qua? Ma che c... Ma dove hai preso l'aborto? No Quella del mago Quella del mago Beh una carta è bella però Nooo Noo Nooo Basta Nooo Cintoria Non devi farle giocate a cazzo Farle Siano belle E adesso come affronti il mio 5 e 1? Così. Eh? Che fai? Sono un'altra elfa. No! Leggera. Oddio. La luce ti brucerà. Io ho finito di creare un'etitola. Certo, ti ringrazio. Non smetti di grugnire, no, è uguale. Gne, gne, gne. Certo, lo devi fare, vero? Dove devi fare i bambini? Ai, verba il mio cinghiale dorato. Aia. Eh? Eh? Il tuo cinghiale dorato. Eh? Dov'è tra le ultime? Suca il mio cinghiale dorato. Non c'è, credo. A chi tiro? A chi tiro? È casuale tanto. È casuale. Ah, è casuale. Spero che c'hai fortuna. Noi, che c'hai fortuna. Noi, il cinghiale dorato. Il cinghiale dorato. Oddio. E te l'abbiamo chiuso. Te l'abbiamo chiuso. Il cinghiale dorato. Ma ha sparato il cinghiale dorato? Ha fatto benissimo. Ok. Vai. Grazie. Ma pure grazie. Ti ringrazio. Grazie. Dove cazzo? Guardalo, guardalo. Che cacchio? Eh, quella è una bella rotta. Porca vacca. Ah. Eh, perché questa, eh? Bellissima, bellissima carta. Ma hai vista una carta più bella? Te la regalò proprio al mercato, qua, la carta. Che brutta cosa. Oh, taglia giù il pozzo. Come fa? Non può. Ha spunti? E come glielo butto, davvero, effettivamente? No, non puoi. Glielo poi butta giù. Attacca lui. Allora, andiamo a perdere. Capito? Ma guarda, Morduchy, io aspetterei nove mana. Nove mana? Basta, volevo fare tutt'altro, ma questo me lo impone. Oddio. No. Non è una leggendaria, va bene così. Curalo! Curalo! La luce ti brucerà! Ma che fa? Mi cura bene. La luce ti bruciera? Oh, a furia di cure. Mi ha curato. No, ho uno scudo invincibile. Così, a caso. Così, a caso. Però se la mettevi dall'altro lato, almeno pigliava il potenzialmente. Non ha ragione, cioè non ha tolto la patente. Sì, è vero. C'ha ragione. Grazie, grazie. Ma però pure così non è che fa schifo. Non puoi attaccarci dal protettore? Effettivamente. Vabbè. Che fai? Bassi! E che gli faccio? Qualsiasi cosa, a caso, pure. Immolati! Immolati! Così. Adesso preparati alla bestia definitiva. Ci stavo andando. Oddio, allora sì. Il tacchino. Mamma mia. Il tacchino superare. Io ho pescato una combo fortissima, però. Non so se il prossimo turno sarei abbastanza forte. No, mannaggia. E mi sa che muore il prossimo turno. Chi? Tu. Penso di sì. No, no, aspetta però. Penso una cosa buona. Eh, lo so, però non lo posso saperlo. Mettilo a terra e dagli quello che dà. Eh, lo so. E lo dà inutile. E lo dico, lo sanno. All'altro è scemo. No, devi metterlo dall'altro lato. Di qua, di qua. Di sinistro destra, non mi dico. Non ci arriva. Perché sei scemo? Oh. L'ho messo. Oh mio Dio, no? Bravissimo. Eh, capito, che già faccio? Ma sì, la voglia. Eh, eh, distruggi almeno un protettore. Che dici tu? No, no, pure il pozzo. No, ha sbagliato. Ma guarda, quanto è imbecille. Allora, ragazzi, noi regaliamo Mordog. Lo facciamo adesso. E adesso ho un 2-7. E tu? Hai un 2-7. Ecco qua. Ecco qua. Vuoi usare quella cazzo di carta che costa zero? Qui? No, no, non ho letto che facevo quella carta. Lo so io. E beh, che... Ci provo? Non so che sembra. Eh, però... Prova, ci dai. Io gli do il pastiglio, probabilmente. Io Cristo. Io spero che non arrivi a 10. Che noi la cazzo di mano. Hai voluto fare il cazzo di aranjo? Ora, distruggi... Distruggi il 0-5. Vai. Evviva, finalmente muore. Tanto si usà sta mattina. Poi... O io ammazzo il 5-5, ma con l'altro. Mi dispiace, sto giocando io, praticamente. Io non l'avrei fatto. Ma niente, ma... È più interessante così. Ehm... Eh, sì, io attaccherei. Vai, così. Così, rimane il protettore. Guarda chi c'è giù. Mi cazzo di giuare. Con mazza a cazzo. E beh, sei 12. Non potrai passare. Non potrai passare. Natale? Sì. È una volta. E ora? Non hai mali, Cosmo? E ora non c'è niente. Adesso ho tipo due botti in faccia da 24 anni. Oddio, aspetta. Ma qualcosa c'è... Do un culo. Vai, butta, butta. Su quale? Eh, su, su. Il centrale. Io ho il protettore, che dici? Ah, su un protettore. No, su quello e mezzo. Per non il protettore, se no, mazzi. Non è vero. In serio? Lui ci avrebbe creduto, forse. L'altro. L'ho trovato. No, no. Oh. Posso far pure questo? Ma perché tu c'hai le bombe nel mazzo e io c'ho i... Perché è culo. Il murlo che potenzia altri murlo che non hanno il mazzo. Io tirerei. Beh io metterò il totem e ciò mai d'arrivo il produttore a culo Il produttore a culo Zitta mai tu eh Zitta mai Attacco sul protettore quello dorato Si sta deridendo perchè fai schifo No, chiama lei, giocare a te No, no, no basta Sta partita è una comica E' uno scandalo Guardalo Questo va Perchè questa ha fatto male Eh si Qualcosa sicuramente hai sentito No Non la facevo nell'altro modo No Perdevi niente Ma cos'è? Ma che è quel coso? Butta, butta tutte e due, butta tutto Ammaligos Eh bravo che lui c'ha mai No, c'è anche lei E' un'edolata e due cindiale Non regge il confronto E beh Che cacchio faccio? Attaccao Schiantate che ne so Che brutta cosa Ho finito le risorse tipo Cazzo Siamo fortissimi Siamo fortissimi Siamo fortissimi E si ce l'ho Aia Come la vedo brutta No ma la cosa bella è che Maligos Hai fatto schiantà meno dieci pedine Ho ribaltato la situazione E' bravo il nostro adesa che ribalta la situazione Ma facciamo un video unico Ma che cazzo ce n'ha fatto? Di un'ora no Ma si Beh Dio uno scusa Mi dai la vita che ho dato prima L'ha buttata via Ma rabbio E ora Il potenzia bot Cos'è quel coso che dà cosa a caso? E' quello che mi piace scusa divino e Che ti arresta agli altri E' enorme Eh Sono tipo morto penso Si No ma che schiantati l'eroe vai No aspetta Bravo fai così E poi mi attacco Bravo Bravo E poi ti dico Mettila a te stesso a quello E poi dai un senso a questa partita Suicidati Ti dai Ti prego Mordog Bam Bam E' il doppio triple Eeeh Me cura pure Non avete prove che sia un deficiente No Deathwing Adesso sappiamo Ma io mi suiciderei se fossi in te eh Suicidati Wtf Non servono Dai Combatti con onore No l'altra Perfetto Oh 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 Dovado su chi? Ha fatto tu No Sono su lui Non è inutile che chiedi E' lo scordare c'era il protettore E adesso muori con onore Che bravo Che bravo Che bravo Che bravo Che bravo Ma cosa Eeeh Che bravo Hai vinto 1-0 per il podcast team Yeeeeh bravo